Sicuramente questo è il futuro messaggio. Questa firma di oggi della convenzione tra la Regione Marche e i 18 comuni del cratere di Macerata, Fermo ed Ascoli che vogliono creare questa importante rete di ecosistema museale vuole essere una valorizzazione non soltanto dei musei ma anche delle bellezze dei propri territori e quindi come Regione siamo sicuramente vicini, daremo il nostro supporto forte, importante non solo di vicinanza ma anche di progettualità. Credo che questo sia un ulteriore messaggio che noi vogliamo dare ai nostri concittadini che piano piano con tutte le cautele stanno uscendo fuori da quel drammatico sisma del 2016.